Luca perché il gol è arrivato anche oggi, sei andato vicino anche al tuo secondo personale con un palo e poi la palla che ha ballato lungo la linea però non sono arrivati tre punti e soprattutto l'entella vi ha scavalcato, che brutto pomeriggio. Sì, c'è da dire che siamo veramente amareggiati perché abbiamo perso una grande occasione e non l'abbiamo fatto secondo me, tra virgolette, se non siamo stati bravi a chiuderla prima siamo stati bravi a trovare il gol subito al secondo tempo però poi con tante disattenzioni e con poca cattiveria giustamente non abbiamo portato a casa il risultato. E questo nel secondo tempo sono perfettamente d'accordo con te, però la prima mezz'ora brutta brutta. Sì, loro tenevano bene il possesso, venivano bene su, non riuscivamo bene a prenderli però comunque sì, abbiamo tenuto il campo, abbiamo trovato il pareggio, abbiamo trovato anche il gol del 2-1 e ripeto, non c'è stata quella cattiveria giusta per portare a casa la partita. Carrarese, non c'è riposo, non si salta nessun turno e quindi? E quindi niente, c'è una partita, uno scontro diretto, iniziamo subito e non c'è tanto da dire dopo il pareggio di oggi, devo dire che il prossimo settimana devi andare in campo e veramente non dar spazio neanche all'avversario di far niente. Ci racconti un po' quel palo e la palla che è danzata sulla linea? Perché il gol l'abbiamo visto, è stato molto molto bello, di testa, invece del sinistro a giro e il colpo di testa a giro. Invece? Quel palo lì non ho smesso ancora un secondo di pensarci perché veramente poteva cambiare la partita, poteva portare i tre punti alla squadra e penso che me lo terrò a mente tutta questa notte e nei prossimi giorni. Hai calciato anche troppo bene forse? Ho calciato dove c'era lo spazio, ho sperato poi che entrasse la palla ma così non è stato però ripeto, dobbiamo essere più cattivi e più determinati perché per andare avanti e per arrivare fino in fondo ci vuole ben altro.